Tutto casa di Davide Iacono raddoppia. Oggi potete trovarci anche nel nuovo punto vendita Biomax Store a canicattini in bagno. Come sempre troverete prodotti più convenienti senza rinunciare alla qualità. Con Biomax Store abbiamo pensato a tutta la famiglia, dai più piccoli con tanti giocattoli e articoli per la scuola, ai più grandi con arredamento, casalinki, prodotti di cosmetica come la nostra linea di tintura per capelli e l'aloe vera Joxir e prodotti per l'igiene e la punizia come la nostra linea di saponi alla spina che rispetta l'ambiente e ti fa veramente risparmiare. Fate felice anche i vostri cari con profumi, borse o bijoux grazie alla nostra vasta scelta di articoli da regalo. Abbiamo pensato proprio a tutti, anche agli amici a quattro zante e alla loro salute, crocchette, cibo e scatole tanti articoli di qualità delle migliori marche. E non dimentichiamo il nostro punto di forza, ovvero il riscaldamento della casa, stufe e caldaia pellet sicure e affidabili. Con la garanzia di marche come CTL e Raffiele, siamo anche distributori di pellet di alta qualità a prezzi competitivi e con un ordine minimo potrai usufruire del nostro servizio di consegna a domicilio. Biomax Store si trova a Canicattini in bagni in via Vittoria Emanuele 438. Seguiteci anche sui social. Biomax Store risparmio qualità e cortesia per tutta la famiglia e anche per tutti i nostri amici a quattro zante.